Ciao ragazzi, siamo in un nuovo video di Newlace Ares, la firma che ti assicura il migliore sistema aereo sui prezzi più prezzi. Siamo una fabbrica, quindi con noi avrai il migliore sistema ma anche il prezzi più economico. Oggi parliamo di microlinea. Come lo sapete, se sei un cliente o se hai un centro o un barbershop? La microlinea è un sistema molto importante, è due uomini con androgeno alopecia. It allows il cliente non scevare le lezze e avere più densità. Il cliente può riuscire il sistema con clipi o con keratin. In questo caso, se sei un centro, puoi ogni mese aggiungere un nuovo keratin in questo sistema. Questo sistema è un molto buon sistema e possiamo fare un mix di base, come in questo caso, con le lezze. You can see here, le lezze. E possiamo mettere le lezze in diverse posizioni, in lezze, in lezze, in lezze, come preferite. Questo sistema può essere in diverse sizes, normalmente 15 cm a 15 cm, ma puoi decidere in quale size order. Il momento per fare questo sistema è apprezzato due modi. L'expedizione, direttamente da un'fattore, per il vostro centro, o se sei un cliente, per il vostro casa. New Lezze Airs è un'innovativa compagno che fa il miglior sistema e lezze in China. Siamo in Qingdao, e proviamo ogni giorno a fare un nuovo sistema, e, lo più importante, è assurare la migliora ventilazione e la migliora airs. Vi ricordo che noi abbiamo un canale Facebook, un canale YouTube e un canale Instagram. Vi potete contattere con noi, con Whatsapp, con il chat, con il telefono, con le mail. Vi lascio tutti in questo commento, in questo video. Ho spero che vi puoi dare un like a questo video, ho spero che vi puoi compartenlo, e ho spero che vi puoi abbiare al nostro canale. Lo più importante, ho spero che vi puoi contattere con noi per fare un'ordine e vedere la nostra qualità. Ricordate che possiamo assurare che gli indiani Rémi haiti, gli indiani Rémi haiti, gli indiani Rémi haiti, gli europei haiti, i più becchi haiti del mondo. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!